Oh, Magami, siamo qui! Sì, per favore, Magami, guardate quale bellissima, bellissima collezione di cristalli demonici, occhi e tutti i tipi di cose che ci amiamo la maggior parte, che ci sono torturati per tutta la carriera, tutta la nostra vita. Questa è una cosa, mio amico, che è 50 anni, più oltre che io, perché, sai, sono 42 anni, ero morto, ero morto, ero morto, ero totalmente, totalmente sottotitato da questi demoni, questi demoni anchori, che mi ha insegnato come riconoscere, come sviluppare un'acquesta, come si sottotitano, come si sottotitano, e tutti questi demoni anchori sono tutta la nostra. Questi sono solo alcuni della mia famiglia, che mi chiedono essere un self miserabile, e essere dominati, totalmente dominati, totalmente allucinati, epinotizzati dai demoni, dai parassati, dai parassati, il parassato che è incredibilmente forte e forte nel nostro intestino. E ora, mio amico, ora, mio amico, è l'ora di ridurre di questo interesse, prendere l'interesse, l'interesse, come mi insegnate, costantemente, e destruirlo, tutti, tutti in una volta. E filmate, recordate, sentate per te, che puoi usare come arma per evitare altri aspiratori, che sono trappati, che sono trappati, come me, per tutta la loro vita, pensate che, per ottenere il successo, o trovare un modo per essere su di parte della società, è facile, è un lavoro difficile, ma non è. È un nuovo paradigma di vita. Per i nuovi storici che ci vediamo in questo video, magari 1000 anni da ora, perché siamo i nuovi pionieri di una nuova storia, una nuova storia dell'umanità. Beh, questa è la verità, che siamo liberati, siamo liberati, e siamo liberati dal controllo del parassati, del demonio dell'amore, perché gli uomini non sono le specie dominante. che ci sono le specie dominante, perché ci sono le specie dominante. Non ci sono le specie dominante, ci sono altre cose, che ci sono dominati. E non ci vediamo, perché la città che mangiamo, perché le toxini che mangiamo, perché la poluzione che mangiamo, e tutto, tutto il cervello che abbiamo, in tv, in news, in radio, in internet, in libri, in tutto, in noveli, in scuole, in università. E per i nuovi storici, veramente, voglio raccontare con te anche il piccolo Buddha, il piccolo Buddha, che sto bruciando, ora, ora, con il mio grande hammer. E questo, credo, questi sono i ultimi secondi, che questo Buddha sta dormendo, e sta dormendo, in mia energia, con le mie amici, mi piace, guardate, che bellissima, immagini, suvenire, tutti questi stupiti animali, come puoi vedere, c'è un pollo, 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 e tutti gli altri stupiti, che puoi ammire. E tutti questi stupiti, sono in tutti i nostri, di tutti i nostri, per il mondo, e le stupiti, stupendo, le stupendo, le stupendo, tutto i giorni, fino a che si muovono. E voi vedere, un pollo, le piacere, le prezioni, le piacere, 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 le freddine, le freddine, le famiglie, che tutti questi francesi e tutti questi grandi lunchi o dinners erano tutti tutti i dinners di spazio di tempo perché di argomento, di fare buoni parole a la tavola destrozendo la relazione con la famiglia, con i bambini e tutto e ho stato totalmente destrozato in mio figlio quindi, miei amici, facciamo il lavoro perché Magami, tu sei il mio mentore tu sei Magami, professore di tutto e di tutto ok? come puoi vedere, sono pronti per destruire tutti i miei in un paio di grande fai di hammer ok? quindi, facciamo un ultimo guardare questo bellissimo demonio quindi, facciamo vedere questi ultimi secondi di questi bellissimi cristalli e bottoni e souvenir e tutti i tipi di cose che puoi mettere a tavola per farlo, per farlo, che i demoni puoi destruire e sbagliare tutta la tua energia e la tua vita e, facciamo destruire loro quindi, facciamo destruire loro questo è il mio grande, 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 come puoi vedere e, facciamo destruire loro ok? 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 La buta non vuole break Now it's breaking So 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 No They don't want to break They don't want to break Guardate questo! Guardate la potenza di questa stagia! Ora è finito, Magan! Ora è finito! Vediamo! Come potete vedere... Come potete vedere... Ci sembra che tutto si è distrutto... Excepto questo... Penso che è lato! Ma prenderò l'acqua! Ma i cristalli sono tutti bruciati! Buono, buono, buono! Ora lasciamo imparare in modo corretto come mi hai detto! Ok? Buono, buono, buono! Senti il rilievo! Senti il rilievo dell'eternità! Senti il rilievo dell'infusione! Senti il rilievo dell'interno del vento! Senti il rilievo dell'euro. Senti il rilievo dell'interno! Senti il rilievo dell'interno del vento! Senti il ritmo! E, ora, vediamo! Questo ragazzi... E queste sono tutte le registrazioni, tutte le registrazioni di cassetti, le tape e l'audio di tutta la musica che ho ascoltato in mio figlio, in mio adolescente, in mia scuola, all'elementare scuola, che ho trovato in una strada, e stiamo cercando di farlo con un piccolo buddha, un buddha, non un buddha ceramico, ma un buddha, per cui possiamo uscire tutte le registrazioni che tutte le registrazioni, queste canzze, queste cd, questo libro, questo è un bellissimo Bob Proctor, un libro che si è nato ricco, che ho ascoltato tantissime volte, che ora possiamo vedere, che sta succedendo così bellissimo, bellissimo, questo stupido knowledge di questo guru, come Bob Proctor, Tony Robbins, e tutti questi esperti che mi rendono totalmente lozziato, e scoppiato il mio dinero, e la mia salute, e la mia vita, per i canzzi, ma ora, come potete vedere, da le tue, sono riusciti da me, da le tue, come un fenice, ma questa volta pronti per essere più forte di più di più, grazie alla giusta di Magami. E se ti aspetti davvero a diventare un guerriero, non così forte come Magami, come Magami, perché Magami è il professore di più di tutto, dove contatti Magami ora, e mandi un minuto a Magami immediatamente, raccontando la sua storia, e il poter te aiutare in un paio di talk, in un Channel encrypted, e in un paio di giorni, in un paio di giorni, e in un paio di giorni, in un po' di giorni, in un paio di giorni, potete poter riusciare a tornare in tua vita, con molto più risultati, molto più salute, energia, pazienza, e forte vita, perché tutto ciò che abbiamo in questo mondo, è una forte vita, e questi d'emozzi, questi toxini, sono totalmente potenti a prendere tutte le forte forti di noi, perché non possiamo non li vediamo fino a che si dedoxifichiamo e Magami è l'unico uomo nel mondo che ha questo spazio speciale. Ok? Scegli il rilievo di questa bellissima spazio. Lascio mettere un po' lato dentro. feel the relief feel the relief everything is burning everything is burning we are always surrounded by this beautiful beautiful olive trees that are the pillars of the Bangami protocol the protocol that will save your life as you can see we can eat some young olive leaves pretty yummy yes, but I have to make me I have to make sure that I wash my teeth as my Alzheimer's mom told me when I eat something so, Bangami, I have to rush now to wash my teeth with my demonic poisoning toothbrush okay so, let's see if the little Buddha little sitting Buddha is burning if you can see it's burning and we are always surrounded by this beautiful olive trees who saved my life thanks to you, Magami that's it that's it beautiful feel the relief you that are watching this video and contact Magami now contact Magami now because Magami is the only man who can save you and pull you out of this system the Matrix system Magami is the only one because he has only special knowledge that comes from another world there is nobody in the world that knows what Magami knows okay? so, contact Magami now! feel the relief feel the relief feel the relief my friend that you are watching from your home your smartphone your computer your iPad your tablet all devices that are sucking you dry like they did to me causing my cancer the lymph node so, my friend if you really want to escape this Matrix system to get back your health your youth your power your wealth your riches your talent your charisma your personality or the woman that you want at your side if you really want to get back your manifestation energy then contact Magami now and you will be very lucky if Magami accept to work to you with you obviously under donation or payment because Magami loves money as well like I did with him and then you will be very lucky because Magami will help you pull out of this Matrix a stupid system okay? that suck you dry and won't you die poor sick and miserable that's it that's it feel the relief my friend feel the relief feel the relief oh the beautiful wind is helping us it's helping us the sleeping Buddha is gone now it's gone it's gone it's gone the higher force from above or from below or from around us are helping us look at this Magami after this beautiful widow of a client you may think you will do it tomorrow you will go to a place of your childhood take all those objects that defined your childhood and maybe your present time and you will destroy them totally in front of the neighbors to see in front of the whole neighborhood to see but you won't because huge internal shame will stop you toxic shame will stop you if shame is big enough you may think even now that this is totally crazy if you have huge shame inside you of only watching this and if you think well maybe maybe I do not need to do it I do not have so many objects I do not have time for this I need to recycle or I need to spread positive thoughts and I need to pray and that means you have a huge positive infestation and you need a lot of work if you agree if you agree that this is something good that this is something beneficial for a warrior that means you have a slightly lower positive infestation but you will still not be able to do it maybe just maybe you could do it but you will have huge shame huge stress and the resulting punishment you get from diarrhea from throat problems from shame will be bigger than the benefit received do you understand this is not easy this is only the tip of the iceberg of course we are not releasing the whole method to the public of course I first have to see are you a warrior if you are a warrior I will teach you this method if you are not a warrior you will just forget that this exists and you will have even shame of thinking that you could go to your childhood house take all these horrible demonic objects and destroy them in front of your neighbors that think you are just this good nice guy are you a warrior or are you a serf